Avete fatto una bella passeggiata per venire fin qui. Sì, indubbiamente abbiamo passato quasi tutta l'Italia da nord a sud, però è stato anche un viaggio piacevole, assolutamente. E avete portato Musa? Sì, abbiamo portato i diffusori Musa, che sono appunto gli ultimi nati in casa Omega, rappresentano anche il livello più alto dei diffusori attualmente a catalogo, assieme a tutta la linea di cavi della serie Nano. Abbiamo solo i cavi di segnale, che sono i nostri cavi di livello più alto delle serie Element. Una bella partnership quella con Cinema e Sound, che a questo punto continuerà. So che sono in arrivo di un'edizione speciale per loro. Esattamente, esattamente. I diffusori che vedete qui sono solo, diciamo così, concessi in prestito, perché stiamo realizzando dei diffusori con una livraia particolare dedicata a Cinema e Sound e contiamo, siamo nel prossimo mese, di consegnarli. Senti, prossimi eventi, dove sarete nei prossimi mesi? Ma sicuramente saremo a Monaco. Adesso dobbiamo vedere un attimo, perché ci sono stati dei qui pro quo con l'organizzazione. Ancora, mi ricordo l'anno scorso, pensato l'anno scorso che vi lasciarono fuori. Esatto, sì, ci dettero soltanto uno stand statico, però avevamo anche uno stand in coesibizione con... eravamo con Icevox, Pilium e altri brand. E quest'anno stiamo vedendo appunto come muoverci e come fare. Poi sicuramente saremo a Vienna, Rimini e Milano. Poi faremo altre fiere in, diciamo, in supporto dei nostri dealer sul nord Europa e in Germania. Benissimo, grazie e a presto allora. Grazie e a presto e arrivederci nelle prossime sale. Grazie a tutti.